Ciao amici Valinvestor, dopo l'attesissimo evento di Tesla del 10 ottobre definito come il Robotaxi Day il giorno in cui Tesla quindi avrebbe presentato al mondo il suo primo Robotaxi le azioni Tesla il giorno dopo la presentazione sono crollate dell'8% ma leggendo in giro sui social ho visto che molti investitori sono confusi da questa reazione del mercato azionario perché dicono era il Robotaxi Day, I non doveva presentare il Robotaxi Tesla e l'ha fatto il Robotaxi c'era la presentazione e si muoveva anche cioè era un vero Robotaxi non un render e in più ha presentato anche il Robovan, un van a guida autonoma dal design futuristico e anche dei robot che parlavano, ballavano, ti servivano da bere eccetera cioè qualcosa di incredibile perché le azioni quindi sono crollate avrebbero al contrario dovuto salire e in questo video cercheremo di capire perché di questa reazione del mercato e quindi se è una reazione sensata oppure è l'opportunità per salire a bordo di Tesla Prima di iniziare vi ricordo come sempre che se seguite il canale e vi piacciono gli argomenti che porto allora probabilmente amerete il circolo dei value investor la nostra community su Discord perché troverete tanti investitori come voi che discutono di value investing portano analisi e tesi di investimento, analizziamo le trimestrali delle aziende insieme eccetera e per entrare nel circolo vi basterà sostenere il canale con un piccolo contributo tramite Patreon vi lascio il link in descrizione ma andiamo subito a Tesla per capire cosa è andato storto per Wall Street da questa presentazione vi condividerò i commenti di chi c'era alla presentazione cioè gli analisti tipo di Morgan Stanley, JP Morgan eccetera che hanno detto in sostanza che visto che Elon l'ha tirata così a lungo con i robotaxi era in pratica il prodotto più anticipato della storia si aspettavano maggiori dettagli è vero che il robotaxi c'era e si muoveva, funzionava ma non c'erano informazioni sufficienti sull'FSD ad esempio quante miglia era capace di percorrere senza interruzioni una strategia, cioè un piano per il lancio di un servizio di ride sharing quanto si aspettavano di guadagnare da questo servizio il mercato potenziale quanto fosse grande eccetera per la precisione partendo dal Cybercub, il robotaxi non si aspettavano gli analisti che avesse solo due posti una cosa vista come limitante poi Elon ha detto che sarà disponibile per meno di 30.000 dollari non specificando però se con gli incentivi già inclusi o no per i tempi del debutto per il robotaxi ha detto prima del 2027 quindi si ipotizza a fine 2026 anche se Elon ha ammesso che potrebbe essere ottimista sulle tempistiche in generale però Elon ha dato pochissime informazioni sul Cybercub su questo robotaxi ha detto solo che avrà la carica a induzione sicuramente interessante ma non ha specificato niente della tecnologia di questo prodotto se e quali sensori avrà se avrà il LiDAR che livello di guida autonoma specifiche sulla batteria sull'autonomia del veicolo sulla potenza del motore le prestazioni il livello di sicurezza se ci saranno diverse configurazioni eccetera non ha detto niente e alcuni analisti hanno detto che sembra il prototipo della Model 2 riconfezionato come veicolo autonomo come robotaxi per questo evento inoltre anche la prova a bordo del Cybercub non è stata molto soddisfacente perché alla fine il veicolo ha fatto il giro di due isolati tipo cioè non è stato un test intensivo con il robotaxi immerso nel traffico cittadino per un bel po' di miglia quindi io credo che la preoccupazione degli analisti sia sul fatto che non dando alcun dettaglio sul progetto e sul veicolo al momento abbiamo solo un prototipo e che quindi i tempi di lancio sul mercato del veicolo e del servizio di car sharing possano essere ben più lunghi di quelli ipotizzati da Musk che già sono lunghi perché molti si aspettavano i robotaxi già nel 2025 non nel 2026 ma dopo questa presentazione la paura è che possa arrivare addirittura oltre il 2026 inoltre Tesla ha annunciato che l'FSD non supervisionato cioè senza bisogno di alcun intervento umano in stile Waymo per intenderci sarà lanciato nel 2025 in California e Texas e questo è sicuramente un'ottima informazione però Elon ha specificato che c'è l'ostacolo delle approvazioni delle regolamentazioni sulla guida autonoma in questi due stati quindi non è detto che non possa slittare il lancio inoltre non ha dato alcun aggiornamento sull'app di ride sharing di cui aveva parlato negli scorsi mesi o specifiche sul modello di business sulla strategia del lancio sul mercato del servizio nessun numero nessun dettaglio economico su cui gli investitori possano ragionare quindi tutta questa superficialità della presentazione non è piaciuta chiaramente al mercato facendo passare in secondo piano anche le dichiarazioni positive tipo sul costo per miglio del Cybercab cioè il veicolo costa meno di 30.000 dollari con un costo per miglio di 20 centesimi quindi il prezzo per corsa dovrebbe aggirarsi sui 30-40 centesimi a miglio hanno dichiarato ampiamente in linea con le aspettative degli analisti facendo presupporre che Tesla abbia teoricamente in termini di costi rispetto alle attuali auto di Uber e Waymo dotate di LiDAR un vantaggio quindi gli analisti dicono sulla carta potrebbe essere una minaccia Tesla, Waymo e Uber ma nella presentazione del 10 non c'è stata alcuna prova concreta di questo vantaggio infatti le azioni Uber sono salite quasi dell'11% il giorno dopo mentre quelle di Tesla sono crollate poi c'è stata la presentazione del RoboVan un grande furgone dal design futuristico che può trasportare fino a 20 persone o anche merci e anche in questo caso purtroppo nessun dettaglio sulle specifiche tecniche poi andiamo agli Optimus gli androidi di Tesla che ballavano e spillavano birra agli ospiti durante l'evento tutto davvero molto figo e che è servito a Tesla per far capire quali potrebbero essere i campi di applicazione di questi robot per il futuro potrebbero sostituire i lavori come i camerieri baristi, commessi, eccetera ma gli analisti che erano lì all'evento con i robot davanti hanno capito che questi robot non operavano in completa autonomia ma erano tipo telecomandati da dei dipendenti di Tesla o comunque non erano al 100% autonomi in quello che facevano quindi alla fine l'Optimus al momento ancora non è in grado di svolgere queste mansioni in completa autonomia e resta pertanto un progetto molto interessante ma ancora di lungo termine ma forse la cosa che più ha deluso gli investitori è stata l'assenza della Model 2 all'evento che era tanto attesa e che Musk aveva promesso che è quello che servirebbe nell'immediato per rilanciare le vendite del segmento automotive che ricordiamoci al momento è quello che porta avanti la baracca ma non c'è stato nessun accenno all'evento di questo modello che in teoria dovrebbe costare solo 25.000 dollari quindi in attesa del Cybercub nel 2026 ma probabilmente nel 2027 per il 2025 non ci dovrebbe essere il lancio di un prodotto che faccia svoltare la situazione in conclusione gli investitori sono rimasti delusi non solo dal fatto che nel breve non ci saranno prodotti di particolare rilievo per far svoltare la situazione nell'automotive e giustificare i multipli ma anche la mancanza di dettagli della presentazione mettono il dubbio agli investitori se questi progetti prodotti presentati siano veramente pronti cioè se Elon riuscirà a mantenere le promesse sui tempi di lancio previsti del Robotaxi del Roboman eccetera e a seguito di questa presentazione gli analisti di JP Morgan hanno dichiarato che vedono un rischio sostanziale di compressione dei multipli dopo il grande rally del titolo in prossimità del Robotaxi Day che poi si è rivelato deludente rally che è arrivato nonostante il deterioramento dei fondamentali quindi nonostante i fondamentali dell'azienda fossero in peggioramento il titolo era salito tantissimo lo stesso perché le aspettative per questo evento erano altissime ma ora JP Morgan dice visto che è stato deludente l'evento il titolo potrebbe ritracciare perché i multipli potrebbero comprimersi in seguito a questa delusione quindi questi sono i motivi che potrebbero aver fatto crollare il prezzo ma fatemi sapere se secondo voi siete d'accordo con gli analisti o invece ritenete che l'evento sia stato positivo e si debba rimanere bullish su Tesla un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao da Davide